Quasi 900 contagiati, 21 decessi e 46 persone guarite dalla malattia. Sono questi gli ultimi numeri aggiornati relativi alla diffusione del coronavirus in Italia. Le ultime vittime decedute ieri sono tre ultraottantenni ed un 77enne, tutti residenti nell'Odigiano, zona focolaio, che come negli altri casi avevano un quadro clinico molto complesso. Rimane fermo a tre contagi invece il dato pugliese. Oltre al 33enne di Torricella, in provincia di Taranto, rientrato da Codogno con un aereo partito da Milano Malpensa, risultano infetti la moglie ed il fratello dell'uomo, che si trovano in quarantena domiciliare in una località balneare del Tarantino. Il paziente è uno, in attesa dei risultati definitivi dell'Istituto Spallanzani di Roma, e ancora ricoverato nel reparto malattie infettive dell'ospedale Moscati di Taranto. Disposta la quarantena anche per i 131 passeggeri che hanno viaggiato con lui sul volo EasyJet Milano-Brindisi di lunedì scorso. Per due settimane non potranno lasciare le loro abitazioni e dovranno segnalare eventuali sintomi sospetti. In stato di isolamento anche il Molfettese di 50 anni risultato positivo al test che vive e lavora a Londra e che giorni fa era tornato in Puglia per poi ripartire per la capitale britannica. L'uomo sarebbe in buone condizioni, mentre familiari e amici che sono venuti a contatto con lui in Italia sono stati sottoposti a profilassi. Nessun contagio registrato nella BAT, tuttavia a scopo precauzionale, sono diversi i comuni dove sono stati previsti interventi straordinari di igienizzazione dei plessi scolastici. Tutti gli istituti superiori della provincia saranno sanificati a partire da oggi, sino alla giornata di lunedì, mentre a Trani, a seguito di un'ordinanza sindacale, già da ieri pomeriggio sono cominciate le grandi pulizie nelle scuole di ogni ordine e grado della città, che andranno avanti sino al 2 marzo. A Biceglie operazioni di sanificazione degli istituti scolastici sono state effettuate già nella giornata di martedì in occasione della sospensione delle lezioni per carnevale, così come il lavaggio delle strade. Lo stesso è stato fatto a Trinitapoli, dove nei giorni scorsi sono stati disinfettati gli ambienti dell'istituto comprensivo Garibaldi Leone, mentre oggi è toccato al circolo didattico Don Milani.